22. Cessione di energia Era un colonnello di cavalleria e comandava un distaccamento che praticava l'ippoterapia per ragazzi down. Un soldato teneva la cavezza e il down era essato in sella. Facevano tre giri di un grande cortile sterrato. Il cavallo si accorgeva che il suo cavaliere non era normale ma se il down rimaneva tranquillo non si adombrava mai. Un giorno però il ragazzo malato si agitò violentemente e il cavallo gettò a terra il soldato e si lanciò al galoppo. Il down smise subito di agitarsi e si sostenne aggrappandosi alla sella. Dopo poco anche il cavallo si equitò e tornò da solo al punto di partenza. Quel giorno mi convinsi che l'ippoterapia consisteva in una cessione di energia dal cavallo al down. Commento Il down è una creatura che non può esprimere ciò che veramente è perché in una o in più vite ha abusato della sua intelligenza. La lezione che adesso deve apprendere consiste proprio nella sofferenza che gli proviene da non poter esprimere la sua intelligenza.